Piazzale Roma Venezia, Piazzale Cialdini a Mestra e Santa Maria Elisabetta a Lido sono gli epicentri in cui si sono concentrati i controlli delle forze dell'ordine nel primo giorno di obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici. Altri controlli si sono svolti tra i passeggeri del servizio di traghetto tra le zattere e l'isola della Giudecca. Su 4.500 verifiche compiute nell'arco della mattinata, i passeggeri lasciati a terra perché sprovvisti del certificato verde sono stati meno di una ventina. Piazzale Roma è uno snodo fondamentale del trasporto pubblico veneziano, gli autobus, il tram e alle mie spalle l'ingresso agli imbarcaderi dei vaporetti che portano in tutta la città e alle isole. Come potete vedere ci sono degli agenti della polizia che affiancano il personale di ACTV nei controlli del Green Pass. Mentre gli agenti di polizia affiancavano il personale di ACTV davanti agli imbarcaderi, la guardia di finanza di concerto con la polizia locale effettuava controlli del Green Pass tra i clienti seduti nei locali dell'area. Poco distante carabinieri controllavano il possesso del certificato verde tra i passeggeri in procinto di salire sugli autobus. Questi sono i binari del tram della capolinea di Piazzale Roma, da qui partono due linee, una che va a Favaro Veneto e l'altra a Marghera, entrambe passando per Mestre e anche qui come potete vedere ci sono agenti della polizia che controllano i passeggeri. È un autentico contingente interforze, quello messo in campo tra laguna e dentro terra, guidato dalla Smart Control Room del Tronchetto, da dove il territorio comunale viene tenuto sotto stretto monitoraggio e si riunisce un tavolo con i rappresentanti di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nell'operazione. Tra i passeggeri tutti o quasi sembrano accettare di buon grado la novità anche i pochi sparuti turisti. Il Green Pass ci vuole certo, non so. Quindi è d'accordo, non è una limitazione? Non è d'accordo. Da dove arriva lei? Da Milano. Avevo le Green Pass e vi hanno domandato all'ingresso del vaporetto di far vedere il Green Pass? È normale perché il virus è terribile, è automatico. Le Green Pass francesi? Sì.